Io so chi è la persona che ti ha insegnato a cucinare questi piatti veramente straordinari ed è una donna molto carina, molto in gamba, che tu non vedi da un po' di tempo è vero una donna molto dolce sì che ti ha insegnato tutte queste cose ed è Lidia Salvetti, giusto? dove? aspetta un attimo ma aspetta dove? non sono finite le sorprese perché c'è anche un'altra persona che ti segue dappertutto ed è il tuo parrucchiere di fiducia anche lui molto in gamba ed è Pino Caruso ma sa tutto sta donna giusto? è straordinario e allora guarda bene, guarda dritto davanti a te sì perché sai cosa ti dico? tieniti forte sì perché Lidia Salvetti e Pino Caruso questa sera sono qui vai come stai? è Lidia allora io devo dire una cosa grazie scusi, scusi Raffaella non posso parlare no ma io per vedere Lidia mi ha veramente commosso Pino lo vedo tutti i giorni va bene senti non mi fate commuovere scusa no no non posso piangere allora signora prego da quella parte perché adesso vieni Silma c'è l'ultima sorpresa e io oddio ma guarda che rido io qui mica te l'ultima sorpresa sei pronta? sì allora tieniti forte tieniti forte te perché non per farmi un tegamino di fatti tuoi ma quando ti sposi guardami dolce negli occhi quando ti sposi? eh non lo so ma è possibile sai perché ti dico questo? perché no no io vedo nei tuoi occhi l'amore la gioia quando si parla di amore i tuoi occhi brillano e si stanno già commuovendo perché il tuo amore il tuo grande amore questa sera è con noi signori Gianni Albrizi è qui ecco qui grazie sei contenta? molto è una bella sorpresa vero? bene finisce qui il primo appuntamento di Uè Gianna che sorpresa ma mi raccomando state molto attenti perché in ogni angolino ci posso essere io pronta a farvi delle sorprese veramente fantastiche ciao a tutti oh diapo I love you Martarella Carrà benissimo